Comuniano Europa Barca a fine settembre propone Traumatica il Festival della Paura e quest'anno ci sono state delle belle unità, scopritele tutte in questo video Eh sì, anche quest'anno siamo a Traumatica, sarà bellissimo Pronti, 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 pronti Calma Manca solo mezz'ora la perdura Che cazzo Ma per voi sarà? Adesso Hanno aperto, hanno aperto, hanno aperto Veloci Veloci Siamo dentro, figata, iniziamo subito, iniziamo subito con Tarot House, una delle mie case preferite Ovviamente, poi vi spiego tutto, iniziamo Visto che nelle case non si può filmare nelle case, attiverò il microfono e io farò sentire l'audio Mamma mia Sarà una figata assurda Mi si è andata figata Mi si è andata figata Mi si è andata figata Oh cazzo Ci sei? Prima non vedevo niente Anche tu? Si Una ducca Ahahahah 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 Tarot House, sempre bello, sempre bello Tarot House sempre bello peccato troppo buio perché abbiamo sbagliato strada non so quante volte va bello bello secondo me un po pochi attori però e la prima casa è andata e la prima casa è andata ora non c'è più vox museum ma andiamo a vedere questo cinema macabro cinema macabro sono curioso questo è nuovo quindi non so che cosa aspettarmi che fa te la boss io mi son perso nella prima che era solo la prima fa te hai fatto colpo simone ah 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 ecco la l'anno scorso hai detto che è brutto oh sì ma è bello ahahahah cosa c'è? c'è uno sulla se... vai vai vai! ma cosa c'è? vedo delle mani... madonna! tipo alien... oddio si muo... Wax Museum bello 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 andiamo subito a farne un'altra anzi passiamo in mezzo qua fai passare bello andiamo avanti allora il tema di questo cinema macabro era praticamente cioè tu passi tutta una serie di sale cinematografiche ognuna col proprio film diverso guarda che è di là mi sembra tu hai tutta una serie di sale ognuna c'è un tema diverso bello 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 cinema macabro bello bello era comunque sulla falsa riga un po' come Wax Museum perché le stanze... oh attenzione ci sono ancora i braccialetti colorati siiii e quest'anno lo prendiamo giusto? giusto! Simone due! Simone ne prende due! perché allora Simone Simone in questa casa tu vedi i fasci colorati cioè le fasci luminosi lo starlight ecco se lo prendi loro sono autorizzati a toccarti gli attori lo prendi? siiii lo prendi? no! perché? andiamo Grimhous! comunque la voce sta andando già puttane e non parlare urlo che bello traumatica che bella traumatica pronto per prendere il fascio luminoso? siiii e se hai il fascio ti possono toccare poi vi dirò come sarà nel frattempo c'è lo spettacolo nel main stage e ce lo godiamo dalla coda wow wow weissi was es ist? weissi wie die heisst? cacchus! come si chiamma cattus è una catà che è un po' di laktose sì ma qui è stata 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 in Sparien grim house un'esperienza totale soprattutto con il fascio luminoso ogni fascio luminoso tanta tanta roba vediamo cosa fare dei il visto che c'è buio visto giusto andiamo subito è lì è lì casa numero 4 in quanto tempo un'ora e mezza un'ora e venti ottimo si caduta chica chino in canto casino da si che da studio da piccata buono dita in canto ehi facciamolo passare beh guardalo 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 arriva 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 ciao finalmente siamo arrivati dopo un'attesa di 45 minuti guardate che bella l'atmosfera fuori con tutto il fumo cos'è? ah perchè si spegne oddio cazzo ok c'è un'altra casa ok siamo siamo batonna santa porca troia ma c'è la melma qua che cazzo niente dove ah además è lì non mi stupirei saltasse fuori qualcosa dali vediamo qua oddio oddio c'è questa sull'alta lena che cazzo è? ah 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 via decisamente la casa più bella per ora ne mancano ancora tre della serata lunghissima quasi dieci minuti quasi dieci minuti bella 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 un sacco di jumpscare ma non solo non solo quindi tanta roba tanta roba ora un'altra casa nuova murder dome che secondo me mi puzza da cagata mi puzza abbastanza mi puzza da cagata tipo shooting io sento proiettili eh lo so ma perché lì c'è scritto da sparare ma magari sono proiettili veri magari sono proiettili veri qualcuno gioca al fantamorto comunque entriamo vi dico e niente poi andiamo a mangiare perché ho una fame e voglia ho una fame e voglia cosa dici per ora di questo traumatica bellissimo è rimasto senza parole ok c'è un video una sorta di laser game con gli attori vediamo come l'anno scorso anche quest'anno la shooting un po' una mezza cagata bella l'idea ma meh meh ora mangiamo e poi andiamo a vedere studio 13 la novità di quest'anno un barbone qualunque che si scalda anche quest'anno abbiamo scelto lo stesso carrettino del street food mac and cheese col pollo croccante topping al limone mentre te col topping al miele cioè guardate che bello guardate che bello ovviamente birrettina salute fa il fuoco giù anche quest'anno comunque la zona food di tutto rispetto perché è piccolina ma è ben fornita guardate vi faccio una cavallata o pass'io ha hast'io ho o o una delle ultime case vedremo se riusciremo a fare anche non anche se è una merda ora questo studio 13 che è nuovo quindi non so cosa sia studio 13 super approvato super approvato tu entri la storia praticamente è fai parte di questo casting per girare un film l'ascensore si rompe e entri in questo mondo diciamo alternativo alternativo bellissimo al primo al secondo posto ed è difficile è difficile primo per me forse io forse dico la collina la collina io invece ho preferito questo più attori più jumpscare e anche se la tematizzazione era meglio la collina perché è naturale all'aperto bello bello ora l'ultimo è l'ultimo sia andiamo all'ultima casa ovviamente a traumatica non possono mancare il cocktail bar e qualsiasi altra tipologia di beveraggio ma guardate che bello questo cocktail bar con vista su altron fa un freddo cane c'è un'umidità pazzesca e anche questa va bene non avevo molte aspettative infatti a parte un inizio interessante migliore rispetto all'anno scorso poi si è rivelata una mezza cagata però dai carina l'idea ovviamente dentro traumatica non può mancare lo store con tutto il merchandising di questo festival e finisce così anche quest'anno quest'evento traumatica no dai bello 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 divertiti un casino case belle a mio avviso potrebbero benissimo toglierne un paio per sistemare bene le altre o ampliarle nota positiva quella all'aperto nuova fantastica bellissima una delle mie preferite lo studio 13 seconda in classifica secondo me anche prima perché meritava tanto le altre sullo stesso livello degli altri anni a parte anche non è quella da sparare che possono togliere benissimo anche domani detto questo come è andato questo traumatica come è andato molto 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 bene come sempre non l'abbiamo sentito l'hanno capito anche loro e se vi è piaciuto questo video ricordatevi che l'anno prossimo l'ultimo weekend di settembre tornerò ancora qui con un nuovo viaggio di gruppo quindi se siete interessati scrivetemi e niente noi ci vediamo al prossimo viaggio e al prossimo video e fai tutto te ciao